adescavano minori online pesanti indizi anche su nisseno di 27 anni arrestato dai carabinieri calta nissetta furto da 6.000 euro indagano i carabinieri gela in fiamme un capannone vigili del fuoco impegnati per diverse ore evasione e danneggiamento 39enne ai domiciliari deve scontare nove mesi le prime dichiarazioni del nuovo presidente della regione schifani nel giorno della cerimonia di proclamazione alla corte d'appello di palermo parco robison urgono interventi attenzioni puntate su illuminazione e giochi danneggiati calcio la domenica delle nissene castrovillari san cataldese in serie d e nissa mazzarese in eccellenza pesantissime le accuse che vengono mosse a un giovane di 27 anni della provincia di caltanissette a un 35enne della provincia di vicenza arrestati e condotti in carcere dai carabinieri violenza sessuale su minore pornografia minorile aggravata e detenzione di materiale pedopornografico una vicenda che affonda le sue radici nel mondo online nel 2021 infatti la madre di una minorenne di torino aveva presentato una denuncia sospettando che la figlia fosse stata adescata ad alcuni pedofili proprio su internet uno dei due indagati infatti aveva finto inizialmente di essere donna avviando con la minorenne una conversazione sulla chat di un gioco online per poi spostare le chiacchierate sul servizio di messaggistica whatsapp l'indagato si sarebbe dimostrato gentile e comprensivo per arrivare a ottenere la fiducia di colei che secondo l'accusa considerava di fatto come una preda per passare così alla richiesta di inviargli foto e video intimi di lei e del fratellino più piccolo nel frattempo anche un altro indagato sarebbe entrato nel perverso gioco la madre della giovane aveva però notato tutto controllando le conversazioni su whatsapp e si era quindi rivolta ai carabinieri del capoluogo piemontese i quali sono riusciti a risalire i presunti responsabili eseguendo anche perquisizioni e sequestri in varie zone d'italia la procura quindi chiesto al gip l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere l'indagine non è ancora chiusa e potrebbero esserci nuovi sviluppi saranno il resto degli accertamenti e l'eventuale processo a chiarire le eventuali responsabilità dei due arrestati e anche il sospetto coinvolgimento di altre persone una pensionata nissena di 97 anni ha subito un furto da 6.000 euro da una sconosciuta che si era asinta la madre della vicina di casa con questa scusa infatti la malvivente ha bussato a casa della pensionata per farsi aprire proprio in quel frangente l'anziana donna ha ricevuto una telefonata dalla nipote e si è allontanata per rispondere un'occasione propizia per la ladra che si è subito messa all'opera cercando la refurtiva e purtroppo ha trovato terreno fertile in camera da letto rubando diversi gioielli anche poco più di una ventina di euro in contanti quando la pensionata ha chiuso il telefono si accorta che l'ospite non c'era più la stessa nipote della donna aveva sollevato dei dubbi quando la nonna le aveva raccontato della singolare visita e proprio quest'ultimo ha allertato i carabinieri che sono arrivati rapidamente sul posto la pensionata è comunque riuscita a fornire una descrizione della ladra spiegando che si trattava di una donna italiana di circa 50 anni di corporatura robusta e con capelli scuri meno precisa la descrizione del viso visto che l'autrice del furto sicuramente per rendersi il meno possibile riconoscibile indossava una mascherina i carabinieri stanno adesso indagando per risalire all'identità dell'autrice del furto era il tardo pomeriggio di ieri quando nelle campagne di bulala a gela un incendio è divampato danneggiando i capannoni di una ditta alla termine imballaggi immediato e determinante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme per ore pare che all'interno del capannone vi fosse materiale altamente infiammabile presenti gli addetti alla sorveglianza dipendenti della ditta proprietaria a rimanere sotto shock un cinquantenne l'uomo una volta al pronto soccorso del vittorio emanuele è stato assistito dai medici ora bisognerà attendere che la struttura possa essere ritenuta nuovamente agibile per le verifiche che aiuteranno a capire le cause e le dinamiche dell'incendio un rumeno di 39 anni residente a delia è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari dai carabinieri perché deve scontare nove mesi a seguito di una condanna definitiva per evasione danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere dalle carte del processo emerge che l'uomo aveva commesso i creati nella zona di petrosino in provincia di trapani dopo la condanna in primo grado aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena che però gli è recentemente stata revocata per altre vicende nelle quali è stato coinvolto almeno secondo quanto riportato negli atti dell'ufficio esecuzioni penali della procura di marsala che ha disposto l'arresto con applicazione degli arresti in casa a distanza di 18 giorni dal voto schifani è entrato in possesso delle sue facoltà il nuovo presidente della regione sicilia renato schifani infatti è stato proclamato ieri presso la corte d'appello di palermo la cerimonia è stata possibile grazie alla chiusura definitiva di tutti i plichi delle 592 sezioni siciliane al voto mancano ancora i dati finali per dichiarare nuovi eletti all'arse ma i numeri disponibili non consentono più di sovvertire il risultato riguardante il presidente comincia così la nuova vita politica di renato schifani anche se da neopresidente della regione è consapevole a causa delle difficoltà che l'isola si trova a vivere dell'ardo compito che lo attende schifani però dovrà ancora aspettare per avere a disposizione un'aggiunta con pieni poteri come lo stesso ammette a margine della proclamazione tenutasi a palermo principalmente guarderò un occhio alle emergenze le emergenze sociali le emergenze diciamo minorili le emergenze speriamo non si ripetano delle delle catastrofi dei disagi ambientali mi auguro che si concluda questa fase e che si possa insediare un'aggiunta nella pienezza dei poteri per la quale non è che mi prenderò i miei tempi cercherò di dividere tra interesse per la giunta e interesse dei siciliani perché gli interessi dei siciliani vanno pure privilegiati rispetto al rispetto istituzionale perché non potrò fare a meno naturalmente della giunta che mi dovrà collaborare e sarà anche fatta bene inoltre da governatore siciliano schifani rivolge un pensiero a ignazio la russa eletto ieri nuovo presidente del senato della repubblica un saluto particolare l'ho mandato poc'anzi al neo ma se ho mandato a carriere allo stato sono fergissimo della sua elezione è una persona alla quale mi lega grande stile d'amicizia abbiamo avuto percorsi istituzionali comuni io presidente del senato lui ministro della giustizia persona percorsi politici comuni io capogruppo anche lui quindi devo dire che per la sicilia oggi è un momento tutto sommato felice dopo la proclamazione per schifani sarà il momento dell'insediamento quando oggi alle 18 a palazzo d'orleans in sala lessi a palermo avverrà il passaggio di consegne con il presidente della regione oscente nello musumeci inizierà così ufficialmente l'era del nuovo governatore siciliano renato schifani con la fine dell'estate terminano anche i lunghi pomeriggi illuminati dalla luce naturale del sole così per giocare all'aria aperta bisogna andare al parco anche all'imbrunire sono numerosi infatti i bambini che insieme alle famiglie passano qualche ora pomeridiana nelle aree giochi cittadine come nel caso del parco robinson nello stesso sono presenti scivoli altalene giochi adatti alle diverse fasce d'età alcuni genitori però ci hanno segnalato la scarsa illuminazione di una delle zone in cui è suddivisa l'area giochi lì dove è presente la struttura più grande con tre scivoli di cui uno coperto rendendo la permanenza dei più piccoli poco sicura i lampioncini installati lungo il perimetro infatti in alcuni punti sarebbero in part oscurati dalla vegetazione ad influire sulla poca luce in quella zona in particolare anche la presenza di un corpo illuminante non funzionante lì c'è un impianto di illuminazione che purtroppo col crescere degli alberi è stato un po' occultato nell'immediato vediamo di provvedere con lo sfoltimento delle fronte degli alberi in modo da dare più respiro anche all'illuminazione poi comunque i tecnici valuteranno la possibilità se è necessario anche di implementare l'impianto di illuminazione magari integrandolo con dei corpi illuminanti in aggiunta intanto si ripresenta anche un altro problema quello dei giochi danneggiati risulta infatti mancante un pannello in uno degli scivoli purtroppo questo è una cosa che spesso si ripete perché vengono utilizzati in malo modo magari sono dei ragazzi più grandi che utilizzano i giochi per i bambini eccetera e con l'ufficio manutenzione vedremo un po' di rimetterli in incesto Sotto la guida del nuovo tecnico Pietro Infantino dopo l'esonero di Matteo Vullo all'indomani della terza sconfitta casalinga contro la Cireale la San Cataldese si prepara alla trasferta di Castro Villari in programma domenica alle ore 15 i Verdi Amaranto hanno assoluta necessità di punti per tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica il penultimo posto ma soprattutto i soli tre punti all'attivo non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi che sperano nella seconda vittoria esterna della stagione dopo quella di Cittanova il Castro Villari reduce dalla battuta d'arresto contro il Catania un 4-0 che brucia non poco dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e giocato a ottimi livelli vuole tornare subito al successo le partite della sesta giornata nel Gironeidi Serie D Canicattì-Trapani, Castro Villari-San Cataldese, Acireale-Realla-Versa, Sant'Agata-San Luca Cittanova-Ragusa, La Mezzia-Santa Maria, Locri-Vibbonese, Paternò-Licata, Mariglianese-Catania non ancora smaltita la delusione per la sconfitta di Agrigento in Coppa Italia che costata l'eliminazione, la Nissa torna a immergersi nell'atmosfera del campionato di eccellenza domenica la squadra allenata da Boncore dovrà vedersela tra le Muramiche con la Mazzarese impegno che si preannuncia più arduo del precedente confronto casalingo contro la Parmonval superata con un perentorio 4-0 la Mazzarese è allestita per navigare nei quartieri alti della classifica e tra le formazioni imbattute del Girone insieme ad Acragas, Enne e Don Carlo finora ha vinto due partite e ha pareggiato tre volte inoltre vanta un'ottima difesa, appena due gol subiti il quadro delle partite in programma nel Girone A di eccellenza fischio d'inizio alle ore 15.30 Casteldaccia Profavara, Don Carlo Enna, Leonfortese Gela, Mazzara Castellammare, Nissa Mazzarese Oratorio Marineo Parmonval, Resuttana Cus Palermo, Sciacca Acragas Ben trovati un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo il Mediterraneo centrale è ancora ostaggio di questo minimo di bassa pressione che dal Nord Africa si muove celermente verso la penisola ellenica ma arreccherà venerdì ancora qualche accenno instabile all'estremo sud poi da sabato alta pressione che man mano tenderà ad occupare l'Italia nel dettaglio possiamo notare come sarà una giornata di gran variabilità ancora all'estremo sud più sole invece al centro nord, cieli sereni o parzialmente nuvolosi per innocue velature o stratificazioni di passaggio la mappa delle precipitazioni ci fa vedere una giornata asciutta al centro nord e sulla Campania mentre tra Puglia, Basilicata, Calabria e Nord Sicilia residui piovaschi o qualche spot temporalesco con venti tesi da nord-nordest ecco la giornata incerta, l'instabilità ancora all'estremo sud altrove più sole con temperature su molte zone comprese tra i 22 e i 25 gradi dettagli maggiori, ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno Vizzini, Viale Trieste servizio notturno Scarantino, Via Paolo Emiliani Giudici Villini, Vieti, Valiantini, Valiantini Scarantino, Via Paolo Emiliani, Vivaldi Scarantino, Via Paolo Emiliano, Via Paolo Emiliani, Vtl Secondly Scarantino, Via Paolo Emiliano, Filmina remember